Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come aumentare gli FPS su Counter Strike 2 ovviamente io da 90 FPS sono riuscito a fare 230 slash 250 FPS grazie al pannello di controllo di Nvidia ovviamente abbiamo risolto tutto nelle impostazioni di Nvidia, quindi eccolo qua impostazioni di Nvidia, ci cliccate sopra se non lo trovate qua sotto scrivete pannello Nvidia o control panel, questo qua ovviamente andiamo su gestisci le impostazioni 3D, impostazioni programma e andiamo ad aggiungere il nostro Counter Strike 2 ovviamente se vai su aggiungi, sfoglia e andiamo nella Steam libreria, quindi in questo caso io vado su common io ho installato il gioco sul mio M2, quindi questa è la cartella Counter Strike Global Offensive c'è ancora la cartella Counter Strike, ci clicco sopra, vado su Game, vado su Bin, Win64 ed eccolo qua CS2 e fai apri e lo aggiungi qua sopra, una volta fatto chiudi qua e Nvidia ci darà dei consigli per aumentare un po' la qualità, le prestazioni e aumentare anche un po' di FPS ovviamente anche sulla frequenza di fotogrammi, quindi frequenza fotogrammi massime applicazioni io qui avevo messo l'attivata e me li faceva fare fino a 200, ho rimosso questa e me ne ha fatti più di 200 FPS quindi sono arrivato più a 256-258 FPS e ho messo disattivata il filtro struttura, questo qua consente, poi scendiamo fino a giù fino a trovare la modalità di gestione dell'alimentazione vabbè questa è per l'alimentazione del computer, ottimizzazione con triad, mettiamo automatico e poi c'è la tecnologia monitor compatibilità G-Sync poi la sincronizzazione verticale mettiamo disattivato, se no ti blocca gli FPS e se riesco a trovare quella della nitidezza filtro anisotropico mettiamo disattivato questo filtro struttura qualità mettiamo prestazioni elevate e una volta fatto non ci resta che fare su applica una volta fatto tutte le modifiche su Counter Strike non ci resta che andare sul gioco e fare altri cambiamenti anche sulle impostazioni del gioco ok siamo nel gioco, se vai sulla rotellina è qua impostazioni, vai su impostazioni video opzioni video avanzate, su personalizzato metti tutto basso sincronizzazione verticale metti off poi vai su video schermo intero in finestra e facciamo applica modifiche e ora andiamo a vedere quanti FPS facciamo su Counter Strike 2 ok ed eccoci qua nel gioco e vedere quanti FPS riusciamo a fare fino a quanto arriviamo ovviamente ora stiamo sui 186-191 FPS però fino a 200 ce la facciamo però più riduciamo la qualità e più gli FPS aumentano quindi aumenteremo così le prestazioni se in questo caso vi serve un altro tutorial su come boostare di più ma proprio di più gli FPS su Counter Strike in futuro ne farò un altro quindi se questo video vi è stato utilissimo su come aumentare gli FPS su Counter Strike 2 grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao